Nuovo appuntamento con SOS Arezzo TV che inizia con una elezione, io saluto Fausto Brogi Buonasera, buonasera Io ti voglio nominare, sai che Beppe Marconi è stato vice sindaco ed è vice di qualunque cosa e io nomino te vice Marconi Ah, il vice del vice Marconi Attento che il vice poi potrebbe scavalcare No, 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 no Oppure lo mandano a casa come è successo a lui Ah, ecco, se perde la poltrona Io mi sono già preparato È sempre colpa del vice Allora, siamo qua Adesso per spiegarvi No, è semplice Siamo, diciamo, molto vicino al supermercato Eurospin Che è, insomma, molto frequentato Ma sapete anche che nei pressi, tra via dei Carabinieri La tangenziale, ci passerete, insomma, quasi tutti i giorni La ferrovia Cosa abbiamo qua? Abbiamo queste costruzioni che sono ferme da tantissimo tempo Ma non è questa la notizia perché di situazioni come queste Purtroppo a Rezzo ce ne sono tante Il motivo è che ci hanno detto Ci hanno detto che delle persone verrebbero a dormire Tra l'altro anche con dei pericoli Perché vedete qui ci sono tutte le imparcature Qua questi altri edifici che doveva essere un direzionale Ci auguriamo che lo diventi E' messo a meglio Però, insomma, pare che ci vengano a dormire diverse persone Allora, abbiamo trovato un barco anche noi per entrare D'altronde entrano tutti Perché non si può entrare noi Abbiate pazienza Allora, qui vedete che i segni di passaggio Sono evidenti Si vede vestiti, ci sono coperte, lenzuola, scarpe, bottiglie, acqua minerale Poi, insomma, ci sono i bagni Un po' tutti hanno bisogno Tutti hanno bisogno dei bagni Si vede che sono molto frequentati Anche spazzatura, bottiglie Quindi a sua volta qui probabilmente durante la notte C'è un discreto, diciamo, una discreta frequentazione Probabilmente è un hotel a meno 5 stelle Insomma, non saprei neanche come poterlo chiamare Però probabilmente il degrado c'è, insomma Bisogna essere chiari E poi come chi passerà Avrà modo di passare lungo il viale dei Carabinieri Probabilmente Potrà vedere anche qualche panno steso Qualche asciugamani Esatto, asciugamani, panni stesi Quindi si presume che durante la giornata O durante la notte Insomma, questo luogo sia frequentato Altrimenti Ricordiamo che poi questo è un cantiere Diciamo, abbandonato Nel senso che i lavori sono interrotti In attesa che anche a livello giudiziario Di amministrazione Venga definito Altro palazzo Di cui ne avevamo già parlato Anche con Beppe Marconi Che avevamo stato lì davanti In via Libia Ricordiamo che è intervenuta anche la polizia E a quanto ci hanno detto C'erano 50 persone Sì, uno sgombero Materassi Persone Diciamo Situazione di degrado Inqualificabile Almeno per quanto ci è stato riferito E ora anche quello È stato sgomberato È messo in sicurezza Quindi nessuno ci può accedere Speriamo che venga fatto Altrettanto in questa zona Perché situazioni del genere Si spera che in una città Civile come Arezzo Che punta al turismo A trarre persone Che vengono a visitarla Insomma Qualcuno ponga rimedio A questa situazione Perché è una via Veramente molto trafficata Poi ci sono Di pericoli Anche per le stesse persone Che lo frequentano Essendo un cantiere Non completato Grazie A Falso Ci rivediamo domani sera